A Monfalcone niente carbone, a Trieste. Questo invocano in coro il sindaco Anna Maria Cisinte e l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito e non si fermano solo ai proclami, alle parole, costituzione di parte civile da parte del comune contro alcuni funzionali della centrale a carbone della A2A sotto procedimento giudiziario, la prima, e ricorso della regione al ministero per il rilascio dell'AIA governativa alla centrale, la seconda. Una proposta si faccia subito questa UTI, questa città metropolitana, e si affidi l'incarico di sindaco alla prima cittadina di Monfalcone anche perché la regione Friuli-Venezia Giulia non si ferma l'isonzo e non si capisce perché ciò che vale per Monfalcone, l'abbandono regionale della politica della produzione a carbone, principale soluzione per tappare l'emergenza climatica del pianeta, non vada bene per Trieste dove la ferriera ha l'intero ciclo produttivo basato proprio sul carbone.